Io sono Niconti, lavoro per la cooperativa Ciauli, una cooperativa che si occupa di tante cose, fra cui l'ambiente. La nostra proposta è quella di creare sull'asta fluviale degli ecosistemi filtro, non sono altro che delle zone di intensa vegetazione, naturalmente piantata e non spontanea, dove l'acqua ricorda il suo vecchio passato, cioè si ferma. Anticamente tutto questo bacino era tutto forestato e l'acqua prima di arrivare all'asta fluviale si filtrava attraverso la vegetazione. Questo naturalmente ora per motivi abitativi, di antropizzazione e quant'altro è impossibile. Noi cerchiamo di ricrearlo sull'asta fluviale, fermiamo con dei massi il fiume per alcuni metri e a monte di questi metri ricreiamo due ecosistemi, uno più intenso e l'altro meno intenso, dove l'acqua viene filtrata, in quanto la cosa più bella e più fortunata del nostro bacino è che ci sono pochi inquinanti chimici e parecchi inquinanti biologici. Quindi con tre aree dedicate a questo sistema filtro la qualità dell'acqua migliorerà, ma non solo. Avremo tre aree che possono essere dedicate all'escursione, al studio naturalistico e soprattutto alla raccolta di alghe che serviranno anche a dare lavoro a persone che possono lavorare su questa asta fluviale. Per fare questo naturalmente servono degli studi, serve capire quali sono le aree maniali e serve soprattutto fare una valutazione di impatto su quello che si va a fare. È diretto e naturale pensare che questo impatto non possa creare danno, in quanto non si fa altro che aggiungere della vegetazione, però è meglio studiare e capire cosa queste cose possono fare, quest'area possono fare, anche perché si fa vicino a centri abitati, quindi bisogna valutare esattamente l'idrogeografia del fiume, l'idrologia del fiume e quali sono le conseguenze dell'azione che noi andiamo a realizzare.